...e io me ne faccio parecchio delle vostre piacche. Ecco, come si è cancia? Che significano i territori? Ma due permesse, se mi è possibile. Nel senso che... Io l'ultima volta mi sono venuto qui a parlare di Expo. Era la fase per cui se tu parlavi di Expo ti tiravano i pomodori in faccia. E devo dire che quel giorno fu un appello che aveva il compito di progettare il patrimonio zero e io avevo l'incarico di collegare quello che avveniva a Milano con i territori del sistema paese lavorando con le regioni. Quel giorno noi abbiamo insistito dicendo guardate che forse ce la siamo.